Via libera dell'Aggiunta Municipale ai lavori per la messa in sicurezza del fiume Picentino nel tratto in corrispondenza con il ponte situato sull'S18. Il progetto è 93.000 euro, varato dall'esecutivo che interessa un'area di circa 500 metri posta in prossimità del centro abitato, arriva in seguito alle numerose istanze dei cittadini che hanno segnalato l'enorme accrescimento di essenze arboree spontanee, tale da comportare un alto rischio di occlusione nel caso vi siano forti piogge. Una problematica che si è resa evidente nel corso dell'ultima perturbazione intensa abbattutasi sulla zona, che ha causato un innalzamento del livello dell'acqua e la difficoltà della stessa di fluire regolarmente proprio per via degli ostacoli presenti.